Buonasera a tutti, rieccoci. Allora, ho dovuto chiudere un attimino la live perché ho dei problemi di connessione con l'ostetrica. Nel frattempo che lei tenta di riconnettersi, vi ricordo che la live solitamente si tiene ogni giovedì dalle 20.30 alle 21.30. Oggi l'abbiamo fatta di mercoledì perché l'ostetrica miriana aveva degli impegni personali domani, quindi abbiamo deciso di anticipare. Allora, vediamo se riesci a connetterti adesso. L'argomento di oggi riguarderà i bisogni della mamma e del bambino successivamente al parto. Eccoci, ce l'abbiamo fatta finalmente. Senza questo primo disagio iniziale non riusciamo mai a iniziare una buona live. Vorrà dire che sarà una buona live, no? Certo. Stavo anticipando appunto che l'argomento di stasera riguarderà i bisogni della mamma e del bambino successivamente al parto. Voglio fare come tutte le live un'introduzione su chi siamo. Io sono in Napolitano, sono una fotografa di Neonati di Milano e ho uno studio a Pavia e lei è un'ostetrica, un'ostetrica si chiama Miriana e che lavora per la casa di Paciamamma, che è una casa maternità. Spiega tu che tu sai spiegare meglio di me. Ok, sì. Allora, io sono un'ostetrica di una casa maternità, la casa di Paciamamma, che copre il territorio di Pavia e di Intorni. Comunque quello che noi facciamo è assistere le donne nella continuità, in particolare per quanto riguarda il parto a domicilio e tutto ciò che è gravidanza, parto e puerperio. Ecco sì, dai. Poi effettivamente di solito c'è sempre occasione di ribadire chi siamo e di riraccontarlo. Comunque, ecco sì, sono un'ostetrica. Perfetto. Allora, guarda, io direi di partire con gli argomenti, poi se ci sono domande magari alla fine della live rispondiamo alle domande che ci hanno fatto nella scorsa live, che non siamo riuscite a rispondere. Che dici? Ok, molto bene, così anche magari tutti coloro che sono interessati hanno tempo di collegarsi, anche chi ci ha seguito i giovedì scorsi. Allora, sì, in realtà già l'argomento di questa live è abbastanza ispirato a quella che è stata una domanda della settimana scorsa. Oggi, o meglio, in questi giorni io e Annie ci siamo un po' confrontate su quali sarebbero stati gli argomenti delle prossime live e effettivamente ci siamo rese conto, poi ci è piaciuto tantissimo vagare un po' con la mente e questo ci ha dato molta ispirazione. E ecco sì, ci siamo accorte che uno degli argomenti che volevamo proporre era molto connessa. Io ogni volta che poi mi guardo nella live mi rendo conto che i miei capelli comunque sembrano da pazza, ma va bene così, questa è essere ostetrica e... Anche fotografa in realtà, soltanto che cinque minuti per truccarmi li ho trovati da... Brava! Io per mettere la maglietta, basta. Comunque, detto questo, dicevo che appunto questa live in realtà, l'argomento di questa live è stato ispirato proprio da una domanda che è stata fatta la volta scorsa, ossia cosa mettere in valigia per il parto, per chi decide di andare a partorire in ospedale. Come vi dicevo io e le mie due colleghe Sabina e Selene della Casa di Pacia Mamma, ma comunque abbiamo proprio deciso per nostra scelta professionale di assistere le donne al domicilio, compreso il parto. Questo cosa significa? Che in realtà la domanda che ci è stata fatta è stata proprio riferita a cosa mettere in valigia per quanto riguarda il parto in ospedale, cosa che non sempre si fa per il parto a domicilio. In una certa forma sì, però, insomma, detto questo, come arrivare ai bisogni di mamma e bambino nelle prime ore dopo il parto dà la domanda cosa mettere in valigia. In realtà, come dicevo con Annie, per quanto riguarda cosa mettere in valigia, qualora la donna avesse bisogno di un elenco esatto delle cose da portare, è molto semplice, nel senso che ogni ospedale di solito ha le proprie preferenze. Come accennavo nella live precedente, di settimana scorsa, gli ospedali in realtà variano anche nel fornire pannolini, assorbenti, cioè ci sono ospedali che forniscono gli assorbenti, ospedali che non li forniscono, pannolini, chi non li fornisce nemmeno. Penso che oramai più o meno tutti, però quando ero studentessa alcuni ospedali in cui ho fatto tirocino non avevano i pannolini e ogni mamma si doveva portare i propri, c'è una scorta minima. Questo per farvi comprendere che se vogliamo attenerci a semplicemente cosa mettere in valigia, prendiamoci, armiamo di elenco e semplicemente inseriamo ciò che c'è scritto in valigia. Invece, da dove è stato ispirato effettivamente l'argomento di oggi? Dai bisogni. Quindi, nella mia testa ho pensato di cosa ha bisogno una mamma e un bambino dopo il parto? Ecco che andremo poi a capire effettivamente quali sono i bisogni, ovviamente sia pratici che invece un po' più connessi all'aspetto di relazione mamma-bambino e quindi che cosa eventualmente la mamma deve portare da casa. Quindi, adesso piano piano chiarirò bene da dove questa contorta ha connessione. L'intento era comunque rispondere alla domanda di una delle nostre donne che hanno seguito la live. Esatto, brava. Ascoltatrici, non mi veniva il giusto nome. Una delle nostre ascoltatrici, fra un altro in tempo, perché lei era una zia che cercava un confronto riguardo a cosa mettere in borsa, ma sua sorella o cognata partorirà a gennaio. Quindi, insomma, per dare risposta abbastanza rapidamente a questa domanda abbiamo connesso tutto questo. Allora, quindi entriamo un po' nello specifico di che cosa hanno bisogno mamma e bambino. In particolare, io inizierei proprio da dopo il parto. Certo, per quanto riguarda la valigia, soprattutto se si decide di travagliare e partorire in ospedale, perché non è l'unica scelta, nel senso che alcune donne oggi scelgono di travagliare a casa e spostarsi in ospedale solo per il periodo espulsivo, ovviamente, soprattutto le donne al primo bambino, perché al secondo bambino non è detto che sia così semplice spostarsi da casa all'ospedale quasi nel periodo espulsivo. Ovviamente, ecco, in realtà sto nominando delle fasi del travaglio, sto dicendo cose che non è scontato che tutti comprendano, quindi se qualcosa non fosse chiaro, assolutamente chiedete. Comunque, per le donne che soprattutto decidono anche di travagliare in ospedale e poi partorire in ospedale, di sicuro una parte di borsa da portare in ospedale compete anche quella fase lì. In realtà, la donna che arriva in ospedale di solito intende mettersi comoda, se si è in travaglio attivo e le ostetriche decidono di ricoverare, a me non piace assolutamente parlare di ricovero, però si dice così, ricoverare in ospedale la donna in travaglio, allora la donna che sarà in travaglio attivo verrà direttamente portata in sala parto. Non è sempre così, però prendiamolo per buono così che possiamo andare verso il concetto base, l'argomento di riferimento di questa live, quindi ipotizziamo che la donna va in sala parto sicuramente, cioè di cui avrà bisogno mettersi a proprio agio, perché è quello che diciamo alle donne che decidono di non partorire a casa, ma di partorire in ospedale, che in sala parto ovviamente devono cercare di ritrovare la propria dimensione di nido, poi anche su questo ci sarebbe da aprire tantissime parentesi, comunque l'intento è quello di sentirsi a proprio agio, comodi e quindi direi che il primo passo è decidere come vestirsi per il travaglio, che non è detto che sia un pigiama, non è detto che sia una vestaglia, la donna può indossare quello che sente di volere in travaglio per stare bene, una maglietta grande, una maglietta del proprio compagno, vuole magari stare nuda, è possibile anche questo, quindi diciamo che ciò di cui c'è bisogno per quella fase lì che è il travaglio sicuramente è il giusto indumento per travagliare. Sempre per il travaglio, quello che io consiglio, come accennavo, giusto per fare un rapido discorso su questa parte, così poi ci spostiamo sul dopo parte, quello che io consiglio per le donne che decidono di travagliare e partorire in ospedale è pensare che il travaglio ha bisogno di energia e siccome il travaglio ha bisogno di energia è importantissimo pensare a qualcosa da mangiare, non detto che tutti gli ospedali lasciano che le donne mangino, però ipotizziamo che siamo in una situazione ottimale per cui nessuno si oppone alla nostra alimentazione, allora io consiglio sempre di portare un po' di ciò che ci va, quindi penso a cosa vorrei mangiare mentre travaglio, ovviamente non lo so perché non ho mai travagliato, però posso ipotizzare che ho voglia di cioccolato, che ho voglia di frutta secca, oppure cracker, oppure focacce, insomma mi armo di quello di cui ho bisogno per nutrirmi in travaglio. Poi in realtà il travaglio porta dei bisogni specifici, magari anche del miele, perché appunto come dicevo il travaglio porta dei bisogni specifici e molte volte le donne hanno voglia di quella cosa lì e dici ma perché proprio quella cosa, tipo le arachidi col miele? Perché probabilmente è proprio ciò di cui hanno bisogno e in realtà se si va a vedere cosa c'è nel miele e cosa c'è nelle arachidi dici ah ok ecco perché. Comunque un'altra immensa parentesi sarebbe questa dell'alimentazione, comunque sicuramente in borsa va portato ciò che ci serve per sostentarci in travaglio. Nonché se ho qualche oggetto, la coperta che sento di volere in travaglio mi porterò la coperta. Questo ovviamente non c'è scritto sulla lista nascita, scusate sulla lista dell'ospedale delle cose da portare in sana parto, però qual è il concetto? Interrogarsi sui propri bisogni. Quindi sul bisogno che ho io come donna in questo momento, quando sto preparando la borsa, incinta, che so di avere dei bisogni e quindi immagino ciò che posso portare della mia casa, lo metto in un borsa e me lo porto. E poi vedremo se c'è la possibilità, una volta che si sta in sana parto, di utilizzare il tuo ciocco portato. Questo per quanto riguarda il travaglio. In realtà non è molto diverso per quanto riguarda il post parto. Quindi avviene il parto, avviene l'incontro col mio bambino e adesso vi vorrei portare proprio ad immaginare quel momento per arrivare a comprendere quali sono i bisogni di mamma e bambino dopo la nascita. Quindi di solito in sala parto come a domicilio a maggior ragione, ma dopo la nascita ci sono le luci soffuse, ormai la parte più potente e sacra, no, in realtà è tutto sacro nel parto, però la parte più, forse anche adrenalinica per le ostetriche. È passata, il bambino è nato, quindi il bambino ha fatto tutto il suo percorso e le ostetriche hanno lasciato che la mamma accogliesse il suo bambino, la mamma ha partorito magari i carponi sul pavimento e è nato questo bimbo che le ostetriche non hanno toccato e il bambino adesso è adagiato sul tappeto di casa o sul pavimento. Sul pavimento per quanto riguarda l'ospedale di solito ci sono le lenzuola sotto la donna e si lascia che la mamma guardi questo bambino. È il primo passo in assoluto, quindi proprio vi sto portando ai primissimi bisogni, i primissimi bisogni di mamma e bambino. Sempre ricollegando, qua ci teniamo la valigia, idealmente qua accanto, in cui ho sentito la mia voce. Sì sì, l'ho messo sul telefono per quello, volevo vedere se era tutto ok. Bravissima. In realtà stavo cercando di farla brava e condividere anch'io su un altro dispositivo, ma mi distraggo per parlare ragazzi. No, vabbè, condividi dopo, non è un problema. Infatti dopo condividerò. Condividete voi che ci seguite, ciao Dani, ciao Katia. Ciao a tutte, ciao a tutti. Comunque, come vi dicevo, in tutto questo percorso di immaginazione della fase dopo il parto, vi chiedo di immaginare comunque di avere, soprattutto se la dovete preparare, la vostra borsa lì accanto e quindi pensare che per ogni fase e ogni bisogno che nominiamo, prendiamo ciò di cui abbiamo bisogno da casa e lo mettiamo in borsa. Per adesso ovviamente non ci serve niente, perché abbiamo detto che le cose per il travaglio le abbiamo usate e ormai io, donna che partorisce, sono nuda, ho soltanto la maglietta del mio compagno che mi dà forza, perché è larga, comoda, tutto va bene e ho partorito e sto guardando il mio bambino che ha adagiato sulle lenzuola sul pavimento, perché ho partorito Carponi, Carponi sul pavimento. La prima cosa che la donna che ha partorito nell'armonia fa di solito è accogliere il bambino, anzi guardarlo, quindi è lì sul pavimento, con le sue mani lo prende, ma di solito può capitare che le donne non da subito abbiano voglia di prendere il bambino e portarlo al petto, ma hanno proprio bisogno di sollevarlo, guardarlo, annusarlo e finalmente comprendere che è il proprio bambino e avvicinarlo al petto. Quindi il primo bisogno è quello dell'incontro, il primo bisogno è che chi sta attorno alla nascita preservi quell'incontro, che non è un incontro di impatto, non sempre, poi ogni mamma è fatta a proprio modo, quindi c'è chi ha bisogno subito di portare il bambino al petto, ma molto spesso c'è prima un riconoscimento, quindi sicuramente il tempo è uno dei bisogni più grandi che le donne hanno sempre, in realtà anche fuori dalla gravidanza, anche fuori dal parto, ma non lo riconosciamo mai, però ha maggior ragione nel parto e ha maggior ragione nel postpartum. Il postpartum, lo chiarisco perché può darsi che lo ripeterò senza accorgermene, è quella fase che inizia in realtà dall'espulsione della placenta, però noi adesso lo faremo iniziare dalla nascita del bambino e termina due ore dopo, in realtà due ore dopo l'espulsione della placenta, perché ricordiamoci che la nascita è conclusa solamente quando sarà nata anche la placenta, quindi il parto in realtà si compone dell'espulsione, che è brutto però, della nascita del bambino e poi successivamente della nascita della placenta, che avviene di solito in due tempi differenti, quindi qua ora quando descrivevo questo passaggio il bimbo è ancora connesso alla placenta, placenta che è ancora attaccata all'utero, quindi il bambino sta ancora respirando sia dalla placenta sia in aria, quindi sta sia inalando i suoi primi respiri, sia respirando attraverso il cordone umbilicale, il cordone umbilicale che consente questi movimenti. Ecco, quindi sicuramente abbiamo focalizzato un primo bisogno che non necessita niente in borsa in realtà, però un primo bisogno che è il tempo ed è un bisogno che si manterrà sempre. Sicuramente ne abbiamo nominati altri, quindi altri bisogni che può avere il bambino e che possono avere mamma e bambino, sicuramente oltre il tempo è il silenzio, perché i suoni che il loro cervello, mettiamola proprio pura, molto terra a terra, il loro cervello ha bisogno di non essere stimolato, di essere completamente assorbito in questo momento dell'incontro, perché questo primo incontro determinerà tantissimo ovviamente, lo determina sempre e ricordiamoci che non c'è mai uno giusto, uno sbagliato o una cosa migliore o una cosa peggiore, ovviamente ora vi sto raccontando proprio l'idiglio di quel parto bellissimo, ottimale, rispettato, che però è anche ciò a cui tutte le donne dovrebbero aspirare, perché è possibile per tutte le donne, quindi ecco come vi dicevo sicuramente ci sarà bisogno di tempo, ci sarà bisogno di silenzio, ci sarà bisogno di luci non forti, quindi penombra, buio, buio ancora meglio, ci sarà bisogno di rispetto in generale, ok? Ecco, detto questo, mamma e bambino si sono incontrati tramite quasi praticamente tutti i sensi, ok? Compreso il tatto, la mamma di solito a questo punto ha bisogno di scoprire il petto e avvicinare il bambino al petto o comunque di avvicinarlo all'addome e dare la possibilità al bambino di continuare a termoregolarsi, perché ricordiamoci che il bambino proviene dall'ambiente uterino, quindi dal liquido amniotico che è caldo come la mamma e dall'abbraccio del liquido amniotico dell'utero, poi nel parto della vagina, del canale del parto, quindi sicuramente riportarlo alla temperatura del corpo materno, quindi riavvicinarlo alla pelle, pelle a pelle della mamma è un passo fondamentale perché il bambino possa riprendere a termoregolarsi, perché magari fa caldissimo, però il bimbo, ripeto, arriva da un ambiente acquoso, anzi acquatico e caldo. A questo punto la mamma ovviamente avrà bisogno di abbaggiarsi un po' più comoda e per lasciare tempo alla placenta di nascere e una volta che la mamma sarà comoda potrà finalmente tornare serenamente a questa nuova relazione che sta scoprendo e che fra l'altro, è sempre bello raccontare i primi incontri, le prime fasi, poi a me piace raccontare di quelle mamme che non sono già state mamme, ma perché le mamme che devono diventare mamme sono anche quelle mamme con più dubbi e quindi porto proprio questa situazione che è la situazione delle massime domande, dei massimi interrogativi, poi in realtà ogni bambino che nasce, anche se fosse l'undicesimo, è comunque un bambino diverso dai dieci precedenti, per cui ogni incontro con ogni bambino è diverso. Ecco, quindi a questo punto il bimbo che, preciso, non è sporco di sangue, ma anzi è coperto della sua preziosissima vernice caseosa. Che cos'è la vernice caseosa? È quella vernice, in realtà è quel liquido biologico. Ho sentito chiamare una crema idratante naturale. Sì, assolutamente, è molto nutriente, ma perché essenzialmente è quella patina che protegge la pelle del bambino all'interno dell'acqua, altrimenti anche il bambino ovviamente a lungo andare inizierebbe a, come si dice, come quando sto troppo nell'acqua, no? Sì. Che mi si raggrinziscono le mani, ecco, raggrinzirsi. Tant'è che i bambini che nascono tanto oltre il termine, di solito hanno proprio questa particolarità di essere un po' raggrinziti, perché la vernice caseosa, man mano che si va oltre il termine, tende ad essere riassorbita dalla pelle e quindi più la pelle riassorbe la vernice caseosa, più il bambino in realtà si raggrinzisce, quindi quei bambini un po' tutti grinzosi, sono quei bambini che nascono molto dopo il termine. Non è detto che sia 41 settimane, 42 settimane, no? Assolutamente magari è 39 settimane, ma nasce comunque molto raggrinzito. Significa che la fecondazione di quell'ovulo lì, quindi la nascita, l'impianto della placenta in utero è avvenuto molto prima di quanto la data presunta, o meglio l'ultima mestruzione ci potrebbe dire. Quindi veramente questo per passarvi che in ostetricia, nella nascita in realtà, nell'accudimento è tutto molto variabile, non c'è una regola. C'è solo l'istinto che poi ci accomuna tutti in realtà e quindi ci porta tutti a comportarci in maniera molto simile. Però è l'istinto, non i numeri, ok? Anche la nuggine ha la stessa funzione, vero? Si chiama così? La nuggine si intende… Ah, la peluria! Sì. Sì, sì, la peluria, scusate, non l'ho mai chiamata così. Però sì, i bambini sono coperti da peluria, ma in realtà quella peluria lì non ha tanto il ruolo di preservare l'acute dei bambini, quanto è proprio ciò che rimane del processo di creazione del bambino, di come cresce in utero e ha questi peli in eccesso che poi perderà. Tant'è che poi, adesso non mi ricordo bene in che fase della vita del bambino, mi sembra, intorno al secondo mese, loro perdono persino i capelli. Quindi perdono proprio tutta questa peluria in eccesso che avevano. Però quella non ha tanto il ruolo di preservare l'acute. L'unica è la vernice caseosa. Io ne ho visti tanti di bimbi pelosi e ci sono mamme che magari mi chiedevano mentre li fotografavo di togliere questi peli. Tutte queste caratteristiche tipiche del neonato, sai, i peli poi magari cominciano a spellarsi un pochettino, hanno questi puntini sul naso che io adoro, puntini bianchi. Secondo me sono caratteristiche del bambino che poi successivamente avranno nostalgia e tenerezza a rivedere, no? Più avanti nelle foto. Quindi non vanno a togliere, secondo me. Quindi li preservi? Sì, sì. Cioè se puoi che la mamma è d'accordo li conservi? Sì, sì. No, io cerco di far capire l'importanza di lasciare il bambino così com'è. A parte ovviamente magari qualche brufoletto, sai, quando hanno l'acne neonatale o altri difetti che magari possono infastidire, allora in quel caso sì, tolgo. Però nel caso di caratteristiche tipiche del neonato, appunto, quelle, no, non le tolgo. Per me sono appunto delle caratteristiche da ricordare, no? Più avanti. Molto bella, molto bella questa cosa. Molto bella. Tant'è che adesso mi viene in mente, mi è venuta in mente proprio, ma figurati, scusami, poi da rispondere là un po'. Mi è venuta in mente, cioè mi viene in mente, pensa te, la mia mamma che ricorda che quando sono nata avevo questa peluria sugli orecchi, no? Quindi lei la prima cosa che ha guardato è che io avessi tutte le dita dei piedi e tutte le dita delle mani. La cosa successiva… Sì, sì. Ma quello è proprio un istinto della mamma. Ma ci sono degli istinti delle mamme che veramente ci accomunano, cioè con tararita dei piedi e delle mani, oppure ridendo con le mie colleghe dicevamo, perché la mia collega lo fa, scaccolare i bambini piccoli. Non avete mai visto che ci sono le mamme con questo mignolino che scavano il naso del bambino, no? Non mi è mai capitato. A noi capita spessissimo e c'è un momento in cui hai tutte le mamme in cerchio e puntualmente sono lì che puliscono il nasino del bambino, ma in realtà è istinto, no? Perché preservano quel momento, cioè preservano la respirazione del neonato semplicemente, no? E noi prendevamo in giro anche la nostra collega Selena e io e la mia collega Sabina, perché anche lei l'abbiamo scovata lì che puliva il nasino d'Atena. Però vabbè, torniamo un pochino a quello che è un argomento della live. Ecco, sì, quindi fino a questo momento in realtà non vi ho detto grandi cose da mettere in borsa, ma perché il concetto è proprio che grandi cose da mettere in borsa non ci sono, ma semplicemente perché i bisogni sono bisogni molto, molto istintivi. Quindi certo, se devo stare entro dei bisogni della società, passatemi il termine, quindi dell'ospedale, del luogo comune con altre persone, allora adesso possiamo nominare delle cose che possono servire. Però capite e sentite più che altro che in tutti questi momenti non ci sono grandi bisogni se non che qualcuno ci preservi, preservi la nostra relazione, il nostro incontro. Comunque detto questo, arriviamo appunto al momento in cui il mio bambino inizia ad aprire gli occhi, perché aprono gli occhi a cercare qualcosa. E quindi a seconda di dove sarà il bambino, alcune mamme decidono di appoggiarlo sull'addome e di lasciare che da solo arrivi al seno, non tutte le circostanze sono favorevoli. Certo, a domicilio se c'è la possibilità questa cosa proviamo a farla. Altre mamme hanno subito l'istinto di prendere il bambino e attaccarlo al seno, indipendentemente da quello che in realtà il bambino vuole fare. In realtà, come vi dicevo, la placenta non è ancora nata, per quello che vi sto raccontando, la mamma si è solo messa comoda, ma stiamo aspettando la nascita della placenta, che ha un tempo di due ore per avvenire. In ospedale un po' meno, però in realtà i tempi fisiologici di distacco della placenta sono due ore, soprattutto per un primo bambino. Comunque vi dicevo, in questo stato di solito la mamma non è molto propensa a portare subito il bambino al seno e ricordiamoci che il processo di nascita è perfetto così com'è. Infatti le mamme a volte appoggiano il bambino sulla propria pelle, nuda, e il bambino da solo inizia a ricercare il seno. È una cosa bellissima che è proprio questa azione di breast crawling, mi sembra si dica, però io con l'inglese penso che si nomini così. Quindi va a ricercare il seno proprio arrampicandosi come un militare, piano piano spingendosi sull'addome della mamma per arrivare al seno. Una particolarità curiosa è che come si orientano? Loro vedono, vedono tutto, vedono colori, vedono benissimo, perché sono fortemente miopi. Cosa significa? Loro vedono soltanto a 20 cm dalla loro faccia, che è precisamente, non precisamente, però più o meno, la distanza fra il capezzolo e il volto della mamma. Quindi loro vedono nitidamente i tratti materni, perché il loro potere, a punto vista, è di 20 cm. Quindi loro dall'addome si trascinano verso il capezzolo, che, questa è la curiosità, ha la particolarità di odorare esattamente come il liquido amniotico. Oggi ho lasciato la tetta finta in macchina, quindi non ce l'ho, però vi farò vedere che sul capezzolo, sulla reola, ho disegnato questi punti, ho proprio creato con l'ago e filo questi puntini. Quelle sono delle ghiandoline che hanno proprio il compito di avere un odore e il bambino che in utero ha già la capacità di vedere, ascoltare, annusare, usmare, annusare e ovviamente anche la capacità di tocco. Cos'è che ho dimenticato? Tatto, vista, udito e anche il gusto. Cioè hanno tutti e cinque i sensi completamente sviluppati, anzi, come vi dicevo, essendo che sono fortemente miopi, tutti gli altri sensi sono molto più sviluppati. Quindi per loro intracciare l'odore del liquido amniotico, quindi di questo liquido che queste piccole ghiandoline rilasciano, le aiuta ad orientarsi e andare verso il seno e quindi verso il nutrimento, verso l'attacco. Dobbiamo ricordare che hanno fatto un grandissimo sforzo che è quello della nascita, perché comunque quello che ripetiamo all'infinito è che nella gravidanza, nel parto, ma soprattutto nella gravidanza, in realtà i protagonisti di questo movimento sono minimo tre, se la famiglia è solo di due e sta diventando di tre, se no è mamma, papà, fratelli e bimbo che nasce, ma rimaniamo sempre sul minimo e gravidanza e parto è di mamma, papà e chi nasce, che ha un ruolo estremamente attivo. Questo perché lo dico, perché non me lo ricordo più, ma perché ho perso un attimo il filo, ma come vi dicevo, quello che andrà a fare è utilizzare la propria... ah no, ecco, 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 vi dicevo che sono tre, soprattutto nel parto, sono mamma e bambino che fanno una gran fatica allo stesso modo, quindi come ha fame mamma, ha fame anche bambino e quindi è come nasce, va a ricercare le sostanze nutritive che gli diano energia, ok? E quindi istintivamente va verso il seno, di nuovo, non ci serve niente per questo, non ci serve uno paracapezzoli, non ci serve niente, ci serve soltanto silenzio, buio e qualcuno che preservi il silenzio, il buio e il tempo, ecco, e il tempo. Quindi quando il bambino raggiunge il seno in realtà è facile che la placenta si stacchi, perché il bambino che inizia a usmare, perché la prima cosa che fanno è usmare, guardare, tirare testate al capezzolo, quindi non è vero che i bambini arrivano e si attaccano, no? I bambini hanno bisogno di tempo, perché hanno appena iniziato a respirare, di avvicinarsi al capezzolo, scoprirne, riscoprirne l'odore, ritrovare l'odore, quindi provare a prenderlo e poi istintivamente, perfettamente, indipendentemente dalla forma del capezzolo, loro si attaccano al seno. Quindi se molte mamme si chiedono, ma io ho il capezzolo rientrando? No, non importa, se loro hanno la possibilità di attaccarsi al seno subito dopo la nascita, qualunque sia il capezzolo loro si attaccano, perché trovano la loro risorsa. Certo, poi se c'è un frenulo corto, che è quella cosina che c'è sotto la lingua, quel filetto che c'è sotto la lingua, allora magari un po' di difficoltà ce l'hanno, ma poi col tempo si scopre e si sistema. Però detto questo, di solito in queste due ore dopo il parto loro sono estremamente recettivi e riescono ad attaccarsi al seno, senza nessun bisogno di supporto, se non l'accudimento della mamma. Quindi se la mamma ha l'istinto di orientarlo verso il seno e avvicinarlo, quello è un istinto saggio e quindi sicuramente l'accudimento, il contenimento è compito del genitore, di conseguenza è giusto, non sono io mamma che avvicino il mio bambino al seno, non sto interferendo, ma lo sto supportando. Mentre tutti gli altri che mettono le mani in realtà interferiscono, perché in quel momento lì sta avvenendo un nuovo processo sacro tale e quale al periodo espulsivo, che è il riconoscimento del bambino e della mamma reciproco. La placenta è nata, poi ci sono mamme che decidono di non recidere il cordone umbilicale, in alcuni ospedali danno la possibilità, pochissimissimi, di tornare a casa con la placenta proprio collegata al bambino ancora, quindi fare un lotus birth e eventualmente poi spiegheremo anche cos'è. Comunque la nascita è integrale, quindi non si recide il cordone umbilicale, chi nasce a casa molto spesso decide di fare questo tipo di nascita, molto spesso ma anche no, ci sono mamme che decidono di recidere il cordone umbilicale, anche a domicilio nonostante, comunque lasciano che tutto il sangue della placenta arrivi al bambino, quindi noi a domicilio di solito prima delle 5-6 ore non recidiamo il cordone umbilicale, perché quando avviene una nascita a domicilio comunque in ogni caso c'è un tempo, quindi dopo il postpartum le ostetriche riordinano, sistemano, se c'è da mettere a lavare qualcosa mettono a lavare qualcosa, fanno in modo che la famiglia non debba preoccuparsi di niente, se c'è da cucinare qualcosa, le ostetriche cucinano anche qualcosa, si rifocillano tutti e poi di solito mamma, bambino e papà o addirittura mamma, bambino e fratellino e papà si mettono nel letto e riposano, la mamma non dorme perché per istinto la mamma dopo il parto non dorme, perché deve controllare che il proprio bambino respiri, però quello che succede è che le ostetriche lasciano il domicilio solo dopo che tutto questo è tornato alla quiete, di solito passano 5-6 ore e quindi fino a quel momento non si recide il cordone umbilicale, così che tutto il sangue della placenta possa tornare al bambino, questo per quanto riguarda il domicilio, per quanto riguarda l'ospedale ormai, si spera, tutti gli ospedali lasciano smettere di pulsare il cordone umbilicale, in realtà il cordone umbilicale ha una pulsazione franca che dura diversi minuti a seconda del bisogno del bambino, quindi non è vero che ci impiega 1-2-3 minuti, no, ci impiega il tempo di cui ha bisogno il bambino, perché il bambino potrebbe avere bisogno di supporto nella respirazione, cioè semplicemente respira benissimo, ma ha bisogno di un attimo in più per aprire gli alveoli polmonari e quindi la placenta continua a fornire finché è attaccata all'utero un apporto di ossigeno anche attraverso il cordone, allora sentirò pulsare, ok? Ovviamente vi dicevo in ospedale si spera che lasciano almeno finire di pulsare, addirittura in alcuni ospedali, per esempio io faccio degli accompagnamenti su magenta e mi trovo benissimo perché molto spesso lasciano che la mamma, il bambino e la placenta rimangano insieme e bambino e placenta attaccati anche fino per tutte le due ore di postpartum e soltanto quando poi si va in camera recidono la placenta. Quindi adesso ipotizziamo che siccome dobbiamo rispondere alla domanda di questa donna, di questa zia che sta per diventare zia, che ha deciso già di partorire in ospedale, portiamo il caso in cui, quello più frequente, cioè in cui recidono il cordone umbilicale. Hanno reciso il cordone umbilicale e a volte lo fa il papà, a volte lo vuole fare stesso la mamma, quindi la placenta poi purtroppo nella stragrande maggioranza degli ospedali viene buttata via, cosa che per me ad oggi è inconcepibile, perché sì, mentre in alcuni ospedali la lasciano portare a casa se la donna fa la richiesta. Però purtroppo in Italia questo è ancora molto visto come la stranezza, non c'è niente di strano e ci dobbiamo iniziare ad abituare a pensare che il bambino è nostro e come il nostro bambino è nostro anche la placenta e quindi buttarla. Mi sento proprio di dire, mi dispiace, non ho mezzi termini su questo, che è veramente un atto crudele, mi dispiace, ma magari molti non lo capiranno, però dobbiamo tanto a quella placenta lì, perché ripeto, il seno è come la placenta, ma la placenta è come il seno, insomma, quindi quello è un organo statipotente e vivo che viene buttato via e quindi è proprio un peccato. Sarebbe bello se ognuno di noi potesse sapere dove è la propria placenta, sotto un albero, oppure adesso c'è chi fa queste perline di placenta che ovviamente sono completamente seccate, pulite e li mettono negli anelli. Vabbè, questa è tutta esagerazione anche forse, però insomma è un estremismo. Però l'idea è proprio dare sacralità a quello che è il prodotto del concepimento, che è brutto chiamarlo così, però il prodotto dell'amore che ha dato luogo e vita a un bambino. Comunque, quindi stavo cercando di arrivare a dirvi che cosa può servire, cioè ipotizziamo che il cordone umbilicale è stato reciso, mamma oggi è proprio volato il tempo, comunque il cordone umbilicale è stato reciso e molte mamme si interrogano, proprio si croggelano nelle domande riguardo l'utilizzo, o meglio come mantenere pulito o in ordine il cordone umbilicale, o meglio il monconcino del cordone umbilicale. Perché lì dove poi ci sarà l'ombelico, rimane un pezzettino di cordone umbilicale con attaccato quello che si chiama cord clamp, che è una pinzettina che essenzialmente blocca il flusso sanguigno che dal bambino va verso la placenta. Quindi ad un certo punto dovrò gestire il bambino con un pezzettino, un monconcino di cordone umbilicale, il cordone clamp e come lo tengo pulito? Essenzialmente, qui potremmo iniziare a pensare a che cosa serve da portare in valigia per prendersi cura di quel cordone umbilicale. Di nuovo, niente. Oh, rieccoci! Cosa è successo? Si era bloccato tutto. Ci sono adesso, mi vedete? Sì, sì, io ti vedo. A un certo punto ti ho visto bloccata. Ok. Sì, anch'io, si è bloccato tutto. Non so nemmeno bene. È importante che sia, insomma, tornato come prima. Avevo una domanda, ma ti faccio finire quello che stavi dicendo. Ah sì, non so bene fin dove siete arrivati, però stavamo parlando del cordone umbilicale. Sì, della pulizia del cordone umbilicale, della gestione del moncone. Esatto, di come gestire il monconcino. Vi dicevo che volevo dirvi cosa mettere in borsa, ma in realtà il discorso è che di nuovo c'è poco da mettere in borsa, nel senso che magari vi faranno vedere che mettono una fascettina e delle garzine. In realtà il concetto è che il cordone umbilicale, il moncone del cordone umbilicale, deve rimanere pulito e asciutto, ma essenzialmente asciutto. Quindi dal momento in cui io garantisco che quel cordone umbilicale lì rimane asciutto, sono a posto. Quindi se desidero coprirlo con delle garze è sempre possibile farlo, altrimenti è sufficiente riuscire a metterlo fuori dal pannolino e lasciarlo all'aria ambiente che si possa essiccare. I primi giorni sarà morbido, poi piano piano diventerà duro, in realtà già dopo 12 ore diventa duro e se si posiziona bene è anche abbastanza semplice da gestire. Ripeto, l'importante è che rimanga asciutto, quindi i maschietti io consiglio di solito di fare una leggera piega al pannolino in modo che il cordone umbilicale rimanga appoggiato sul pannolino, perché i maschietti di solito lavano dappertutto quando fanno pipì. E poi ovviamente il bagnetto è sconsigliato fino a che non si stacca il cordone umbilicale, perché altrimenti se si continua a bagnare, quello che succede è che non si estica mai e non si stacca mai dall'inserzione dell'ombelico, l'inserzione del cordone umbilicale e quindi l'ombelico. Un'ultima cosa che volevo dirvi, poi ti lascio fare la domanda, se proprio vogliamo portare qualcosa da casa, una cosa che può essere utile, che io ho visto essere utile, è l'arnica in polvere o, se non l'arnica in polvere, l'argilla verde ventilata. L'argilla verde ventilata che non è altro che quella che si usa per le maschere di bellezza, però ovviamente si va a chiedere in erboristeria, argilla verde ventilata e quella lì che essenzialmente senza nessun tipo di principio attivo, soltanto l'argilla, quindi soltanto terra, si può utilizzare per velocizzare l'esticazione del cordone umbilicale. Quindi ogni qualvolta io cambio il mio bambino, metto un pochettino di argilla e questo velocizza l'esticazione del cordone umbilicale. Sì, interessante, vero? E questa è una cosa che effettivamente si può mettere in borsa, ma che non troverete mai su nessuna lista nascita, cioè nessuna lista degli ospedali, ma secondo me è una cosa che può essere utile. Invece guardze, guardine, secondo me non serve a niente, se proprio desiderate usarli, per i primi tempi usate pure quelli degli ospedali, che di solito ci sono quelli, non c'è quasi mai problema. Dimmi, dimmi Annie, che domanda avevi? Allora, io in quattro anni che fotografo neonati più o meno, mi è capitato solo due volte di vedere quella che tu chiami cordon clamp, la clamp. Cioè la maggior parte dei bambini è senza quella cosina di plastica, insomma, che a me durante le sessioni, devo dire la verità, è un po' scomoda perché non sai come mettere il bambino, magari gli puoi fare male, gli puoi strappare il cordone, quindi non è il massimo della vita. È vero. Qual è una cosa che rimane fino a quando non si stacca il cordone? Cioè non la puoi togliere prima? No, in realtà sì. Anzi, molto spesso l'ospedale ti fa andare a casa senza quello. Cioè te lo apre, te lo apre e ti manda a casa senza. Sì, però è una cosa che viene fatta alla dimissione e non sempre viene fatta. Però se viene fatta alla dimissione, viene fatta, mi sembra che c'è proprio un aggeggio apposta per aprirlo. Dico mi sembra perché non me lo ricordo più. Alcune cose le ho rimosse dal cervello perché non le vedo io. Ma è raro, io appunto ti dicevo è raro che ho visto bimbi con quella clamp all'ombelico. Di solito vengono tutti, se hanno ancora il cordino, il monconcino con la garzina intorno e la retina per tenere la garda. Sì, esatto. Che in realtà, ripeto, come vi dicevo, non è assolutamente essenziale. Anzi, soprattutto quando vai a casa, che quindi il cord clamp è stato tolto, ha maggior ragione, è talmente secco il cordone umbilicale che lasciarlo senza garza fa sì che si asciughi più in fretta perché l'aria, l'ossigeno, l'aria ambiente va proprio a velocizzare l'esticcazione e quindi si stacca prima che è la cosa in assoluto migliore. Solo che in ospedale non favoriscono tanto questa informazione che in realtà però è la più normale, perché basti pensare quando mi taglio sul dito che ci metto il cerotto, poi quel taglio lì ci mette più tempo a guarire. Mentre quando lo lascio scoperto, che ho la possibilità di lasciarlo scoperto, si cicatrizza molto, cioè si chiude molto in fretta, si margina molto in fretta. C'è Roberta, scusami, volevi dire qualcosa? No, no, dimmi. No, c'è Roberta che ha detto che la sua bimba ha avuto il cordon clamp fino a quando le è caduto il monconcino. Ma è una cosa che possono togliere, perché secondo me una volta che il cordone si è seccato, che funzione ha? Solo a disturbare i genitori mentre vestono il bambino, perché è anche ingombrante, devo dire. Eh sì, è più o meno grosso. Eh lo so, sì, è bello grosso. Poi insomma è duretto, quindi devi stare attenta anche a come muovi il bambino, come lo sposti, come lo metti, insomma è un po' scomodo. In realtà il concetto è, adesso mi è venuto persino in mente, che non ne ho neanche uno in questo momento, però il cordon clamp, guarda, può somigliare a questo pezzettino qua, nel senso che è più o meno delle dimensioni del microfono, forse un pochino più grande, e immaginandolo così, ma grosso, doppio, quindi immaginiamo due pezzi di questi, da una parte c'è una specie di chiusura, tipo molletta. Ce l'ho! Avete presente quelli per i pacchetti dell'Ikea? Sì, sì, uguale, però più piccolo. Sì, assomiglia molto, e per aprirlo, vi faccio vedere, aia, aia, oddio, io perché non mi ricordavo che la Cecilia avesse il cordon clamp, ce l'aveva anche quando è venuta a fare la sessione? Eccomi, è perché dipende proprio se lo tolgono, non tutti lo tolgono, ecco, eccolo qua, guardate, l'ho preso, non il cordon clamp, quello dell'Ikea, però è essenzialmente fatto più o meno così, quindi da una parte ha una clip del genere, e dall'altra ha una piega più o meno come questa, che però non è proprio una piega, ma è di solito più tonda, ecco, è lì che si taglia, cioè, è proprio lì dove c'è questa parte più tonda, che anche con una forbice molto potente, se siete a casa potete reciderlo e aprirlo, non si apre dalla parte della pinza, ma si apre dall'altra parte, quindi questo per dirvi come poterlo togliere, immaginate che, dov'è, qua, il buchino questo qua, della piega, opposta alla chiusura, sia un po' più grande, andando lì con qualcosa che taglia bene, quindi insomma in mente un piccolo, un tronchesino piccolino, quello, anche quello delle unghie, taglio lì e posso toglierlo, perché tanto non c'è più utilità. Esatto, esatto, non ha senso, a me è capitato durante il workshop in Sicilia, che sono andata a fine settembre, un bambino che aveva questo cordon clamp, appunto, questa molettina, che io in quel momento era la prima volta che la vedevo, almeno da quello che mi ricordo, perché come sai ho l'Alzheimer, quindi magari l'ho visto ma non mi ricordavo, e ho visto questa cordon clamp, che ho detto, oddio, ma a cosa serve? Nel senso, ormai il cordone è secco, immaginavo, appunto, dalle mie conoscenze infermieristiche, che quella clamp servisse per chiudere, magari subito dopo la nascita, per evitare, appunto, che il sangue uscisse da un monconcino, ma una volta secco, a cosa serve? Però ovviamente i genitori, sai, soprattutto se è il primo bambino, sono un po' resti a toccare qualsiasi cosa, quindi hanno detto, no, lasciamo stare, lasciamo tutto così com'è, e hanno lasciato lì, però secondo me è una grande rottura di scatole, nel senso che già i miei genitori devono pensare a mille cose, poi anche questo cosino di plastica che non ha nessuna utilità una volta che il monconcino si è seccato, quindi puoi chiederteglielo, insomma, sì. Però, ecco, abbiamo svelato che si può togliere, poi, se a maggior ragione la famiglia ha un'ostetrica che la segue, perché comunque sempre più famiglie chiedono il postpartum alle ostetriche, allora possono proprio chiederlo di rimuoverlo, cioè l'ostetrica sicuramente li supporta in questo. Dai, allora, siccome anche oggi siamo agli sgoccioli, volevo finire di chiudere, volevo chiudere più che con i bisogni, che tanto comunque ne parleremo tantissimo sempre, anche proprio su che cosa mettere nella borsa, quindi essenzialmente tornando a quel concetto di termoregolazione, quindi sempre a queste prime ore, primissime due ore dopo il parto e lì ci ricolleghiamo, in realtà oltre che il contatto materno a un certo punto, soprattutto l'ospedale, la casa non è detto, ma l'ospedale sì, richiede che il bambino venga vestito, quindi sicuramente in borsa ci andranno diversi cambi del bambino, una cosa molto utile, se il parto rischio in ospedale, è proprio creare delle bustine con scritto primo cambio, secondo cambio, perché molte volte non è la mamma a andare a recuperare i vestiti in borsa, ma è o il papà, che ovviamente è estremamente emozionato, di conseguenza ci manca solo che a un papà vai a chiedere quella tutina, quelle calzine, quel cappellino, eccetera, quindi veramente li manda in crisi i poverini, giustamente manda in crisi anche l'ostetrica, cioè nel senso l'ostetrica che deve mettere le mani nella borsa della mamma non è mai bello, quindi creare delle bustine con scritto primo cambio è ottimale, perché così chi andrà a prendere quel cambio ce l'ha portata di mano, preso il cambio lo porti a chi si occuperà di vestire il bambino, che si spera siano mamma e papà, ma non è per niente detto, e si può poi vestire. Poi vi dicevo, ecco quindi per il bambino ovviamente il primo cambio che di solito è un body, poi una tutina, quindi due strati più o meno, però sempre a discrezione e a seconda della stagione, e poi le calzine, ma la cosa essenziale in realtà al di là di tutto è un cappellino, cioè i bambini termodisperdono, quindi abbassano la loro temperatura corporea dalla testa, quindi se ho paura che il mio bambino abbia freddo, cosa faccio? Lo tengo con il body, quindi quello anche corto, il body di cotone, sulla mia pelle, quindi a contatto con la mia pancia, con un bel cappellino e una coperta che copre me è lui, ovviamente con la testa del bambino scoperta, però che copre me è lui, quella è la situazione ottimale di termoregolazione per il bambino, anzi ottimale sarebbe stare nudo sulla mamma, però ipotizzando che siamo in ospedale, quindi porterò il minimo indispensabile che mi serve per cambiare il mio bambino, contando che chi partorisce da parto spontaneo, naturale, sta 48 ore in ospedale, chi partisce da taglio cesareo ne sta 72, quindi si calcolano un po' i cambi, ovviamente i cambi per il bambino e per la mamma e quindi già abbiamo detto un po' di cose che vanno nella borsa, per quanto riguarda l'alimentazione dopo il parto poi se si è in ospedale ci pensa l'ospedale, anzi la mente fanno portare da fuori, di sicuro poi in borsa ovviamente serviranno l'essenziale per prendersi cura di sé, quindi spazzolino, dentifricio, non vi dimenticate il detergente intimo perché quello non c'è quasi mai, ovviamente non è che ci sia bisogno di farsi grossi bidet, ma come è consono per tutte le donne, almeno una volta al giorno fare un bidet con un detergente che deve essere per la donna che ha partorito un detergente a pH neutro, quindi mentre per la donna in età fertile, in fase mestruale o meglio durante il ciclo mestruale dovrebbe utilizzare un pH acido, la donna in puerperio usa un pH come in menopausa, quindi un pH neutro, un pH 7. Quindi non dimenticatelo perché in realtà non ci sono in ospedale i saponi e quindi quelli vanno portati. Vediamo, mi sembra di aver detto tutto. C'è Roberta che mi dice che le hanno detto che bisogna sentire dietro il collo del bambino per sapere se ha caldo o freddo. In realtà dipende, nel senso che, allora certo, mani e piedi di solito sono più fredde perché è il distretto periferico, quindi la parte che prima si raffredda invece per tenere caldo il tronco e la testa, quindi di sicuro le manine fredde non vuol dire che il bambino ha freddo, ma potrebbe essere che se invece diventa effettivamente sul collo, che è una parte centrale, fresco, vuol dire che magari ha freddo. Però io dico invece, questa è un po' più complicata ma in realtà molto più spontanea, che se il bambino sta a contatto con la mamma, e qua veniamo ad accennare una parte del prossimo argomento di giovedì prossimo, se quindi c'è un alto contatto con la mamma, quindi la mamma che non ha fretta, cioè non ha bisogno proprio della mamma di metterlo giù nel passeggino, ma se lo tiene a contatto, allora quel bambino lì, scusate c'è un starnuto, che è arrivato. Grazie. Quel bambino lì, come capisco se ha freddo o ha caldo? Se la mamma ha freddo, il bambino ha freddo, se la mamma ha caldo, il bambino ha caldo. Semplicissimo. Perché un bambino a contatto con la mamma è un bambino che in realtà la mamma è talmente perfetta che si termoregola in base al bisogno del bambino. Quindi se il bambino ha freddo, la mamma avrà freddo e quindi copro il mio bambino. Ma perché copro me stessa? Questo è un accenno del principio che in realtà sta alla base dell'alto contatto. Infatti l'idea della prossima live è quella di parlare dell'alto contatto e il co-sleeping, quindi tutta quella che prosegue nell'accudimento e nella lettura dei bisogni di mamma e bambino, attraverso questo grossissimo dubbio che affligge tantissime mamme di quanto devo tenere in braccio il mio bambino, quanto posso tenere in braccio il mio bambino, perché tantissime mamme si vedono mettere delle restrizioni dalle proprie mamme, quindi dalle nonne. E quindi affrontiamo questo argomento ostico perché è molto dibattuto dell'alto contatto, quindi tutto ciò che significa tenere il bambino in braccio, tenerlo a contatto con la mamma, tenerlo nel lettone, eccetera. Ok, guarda, finiamo con la risposta, ti ricordi la ragazza Carola che mi aveva chiesto, ci aveva chiesto come fa il seno a sapere di cosa ha bisogno il bambino anche se mangia anche le pappe? Certo, allora giusto, giusto, poi abbiamo risposto a tutte le altre domande, vero? Sì, più o meno, forse ce n'è una di Patrizia che chiedeva durante la gravidanza cosa bisogna mettere sul seno, non ho messo nulla, ho sofferto di ragadi. Ah, ecco, 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 sì, adesso me la ricordo. Allora, per quanto riguarda, facciamo così, per quanto riguarda cosa mettere sul seno, in realtà la cura del seno, non so se ne abbiamo parlato durante la live che abbiamo fatto sulla cura del seno, però in gravidanza non c'è tanto da fare per preparare il capezzolo, in realtà non c'è molto da fare, quello che è importante, quindi non c'è niente da applicare, certo se la donna ha voglia di prendersi cura di sé, vuole usare dell'olio come su tutto il resto del corpo per massaggiare anche il capezzolo e l'areola, questo è ben accetto, ma perché il nostro tatto, quindi il nostro senso tatto, ci aiuta a prendere consapevolezza di alcune cose, questo è vero per esempio anche per il massaggio del perineo, quindi quel massaggio sicuramente risveglia la cute e la prepara, però non ha una funzionalità da dire sicuramente se fai quel massaggio sul capezzolo, allora il capezzolo non avrà le ragadi, no, le ragadi hanno proprio una derivazione molto diversa dal semplice contatto col bambino o comunque semplice stimolo dato dalla sozione del bambino, mi sono spiegata, dietro le ragadi c'è moltissimo, quindi in realtà se si dovesse presentare, nella vostra esperienza, se si dovessero presentare delle ragadi, veramente col cuore in mano vi dico di fare riferimento a una figura professionale competente, perché le ragadi sono molto dolorose, compromettono tantissimi allattamenti, ma sono anche molto umane e bisogna, dietro la ragade veramente c'è tanto, che può essere un attacco sbagliato del bambino al seno, ma può essere anche un bisogno materno che si esterna attraverso una ragade, è molto complicato, ma veramente dal momento in cui c'è la ragade e quindi c'è un dolore e c'è un non benessere, contattate un'ostetrica, perché quell'ostetrica vi aiuterà a comprendere perché c'è la ragade e non c'è massaggio al seno che tenga, se la ragade si deve creare, allora si creerà e poi si rimarginerà, ovviamente se so a chi affidarmi, perché le donne come ho detto in tutte le live, soprattutto durante la gravidanza, nel parto e nel puerperio non devono mai rimanere sole, perché il processo di genitorialità, quello che porta alla genitorialità è un processo che si fa all'interno della comunità, la nostra comunità non è più una comunità attiva, ma è diventata una comunità molto passiva, benché sia molto attivi sui social e vabbè, dispiace Facebook, ci stai anche facendo farla diretta, però diciamo che hai limitato un po' il contatto umano, quindi non avendo noi la comunità dalla nostra parte, dico sempre le mamme sole non devono rimanere, quindi se ho le ragade cerco supporto, magari da prima fra le pari, quindi fra altre mamme e poi che mi possano aiutare a indirizzarmi verso l'ostetrica giusta per me, per risolvere la mia ragade, quindi veramente non sentitevi sole, non abbiate paura di dire ho questo bisogno e infatti torniamo di nuovo ai bisogni, perché questo è un momento prezioso, la maternità e quindi ogni mamma ha il diritto di scoprire qual è il proprio allattamento e come dico sempre l'allattamento è sicuramente allattamento al seno, ma anche altri tipi di allattamento, quindi anche l'allattamento col biberon, è una scelta al patto che privilegi la relazione col bambino, è una ragade e non facilita la relazione col bambino. Ora torno a bomba velocissima su quello che è, come il seno capisce o meglio riesce a intercettare i bisogni del bambino nonostante le pappe, in realtà qua c'è poco di razionale, nel senso che il bambino sicuramente si procura ciò di cui ha bisogno dal cibo, ma finché chiederà il seno significa che dal seno riceve un nutrimento di cui ha bisogno, il nutrimento è veramente ampio come termine, cioè fra cibo e nutrimento passa un'eternità, neanche un mare, un oceano, perché il cibo è il prodotto che serve per portarmi quel dato alimento, mentre il nutrimento è una cosa che sta su tanti livelli, quindi sia sul livello fisico-biologico, sia sui bisogni. Quindi di cosa ha bisogno il mio bambino? Magari dal cibo prende tutto, ma solo dal seno prende il nutrimento, ok? Tant'è che quindi qua si riconnette il concetto di cucina, o meglio di prendersi cura attraverso la cucina e di nuovo quando una mamma ha la possibilità e il privilegio di dedicare un tempo all'atto del cucinare, si sta prendendo cura e sta nutrendo il proprio nucleo familiare, una mamma o un papà, indipendentemente. Allora lì, sicuramente attraverso quel nutrimento lì arriva tutto, ma invece ci sono bambini che hanno comunque bisogno di integrare quel nutrimento con il rapporto materno e quindi continueranno a chiedere il seno. Di nuovo prendono ciò di cui hanno bisogno dal seno. Mentre per quanto riguarda tutte le varie vitamine, tutti i vari nutrimenti che il seno può produrre, sicuramente il seno darà al bambino ciò di cui ha bisogno. Cioè è difficile dare un eccesso di vitamina E, ok? Non succederà mai. Quindi il bambino essenzialmente prenderà quello che ha bisogno e quello di cui non ha bisogno lo butterà via attraverso feci e urine. Ovviamente il latte non è mai un latte grasso, da dire porta ad ingrassare il mio bambino. Quindi il latte materno non è mai grasso, ok? Quindi non c'è pericolo che assumano grasso, grasso cattivo, passate nel termine, attraverso il seno, ma ha soltanto un nutrimento buono. Quindi se quel seno sta dando di più di quello che il bambino ha bisogno in termini di nutrienti, in questo caso, quindi proprio di alimento, il bambino lo espellerà attraverso le feci e le urine. Quindi diciamo che è il seno a dare ciò di cui il bambino ha bisogno, ma il bambino è anche a prendersi quello di cui ha bisogno. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì, benissimo. Allora, al momento non ci sono altre domande, quindi direi di finire qui questa puntata. È durata tantissimo! Sì, infatti! Oddio! Sono le dieci meno un quarto. Perfetto. Vabbè, abbiamo anche iniziato con il solito ritardo dovuto alla mia non connessione. Va bene, allora ci vediamo giovedì prossimo, mi raccomando. Oggi abbiamo fatto di mercoledì perché domani è l'anniversario di Miriam e il suo compagno. Esatto, diciamo, è l'anniversario del mio compagno, quindi ho chiesto a Danny di concedermi questa... no, scherzo. Però ovviamente all'inizio ho detto no, la faccio, la faccio assolutamente lo stesso, la diretta, poi in realtà ho deciso di privilegiare questa ricorrenza e quindi niente, non potevo fare la diretta, sarò fuori a cena, pensatemi. Divertiti, divertitevi, passate una giornata. Grazie. Grazie. Non preoccuparti, figurati tanto, comunque la live sarà disponibile sempre per i genitori, quindi se hanno voglia di rivederla la trovano su questa pagina e anche su YouTube, la metterò tra qualche giorno, insomma, quando riuscirò a metterla. E nulla, poi se si hanno delle domande si possono fare anche non live e risponderemo la prossima volta che saremo in diretta. Esatto. Perfetto. Perfetto. Grazie mille Miriana, come sempre. Grazie a te. Sei gentilissima, dolcissima, tuttoissima. Grazie a te. Grazie mille che ci ascoltate e nulla, buona serata a tutti. Esatto, grazie a tutti e buona serata. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio, ciao. Ciao.